Bentornati sul canale di Access Zero Zero, bentornati a un nuovo episodio di Kirby e la Terra Perduta riprende questa serie insieme a domani, da quando vedrete questo video. Super Mario 64 uscirà quindi sabato, mi raccomando, un giorno sì, un giorno no, tipo questa serie uscirà di venerdì, l'episodio successivo sarà la domenica, poi sarà martedì, eccetera. Super Mario 64 uscirà di sabato, quindi l'episodio successivo sarà lunedì e poi quello dopo mercoledì e via dicendo, ok? Un po' come succede con Zelda, giusto per farvelo sapere, perché appunto riprendono queste due serie grazie a voi, grazie a quello che mi avete scritto nei commenti al post che avevo fatto su YouTube. Quindi riprendiamo, io non ci so più giocare praticamente, quindi mi dispiace perché si vedrà la serie di fila, ma non ci so più giocare al momento, devo reimparare. Elflin, Elflin, i Waddle Dee si sono impegnati tantissimo, hanno ricostruito la città a una velocità incredibile. Ok, sembrava giusto parlarci, c'era il coso arancione, ho detto proviamo, magari mi deve dire qualcosa di specifico. Sembra di no. Comunque, andiamo a macerie maraviglia, meraviglia, e vediamo un po' che cosa manca, perché io non so qui che cosa avevo fatto, che cosa non avevo fatto dei livelli. Io sono abbastanza sicuro di aver fatto tutti questi, circuito rapido, eccetera, oppure no. Sono un attimo indeciso. Sì, sì, tesoro fuoco, sta roba l'avevo fatta tutta, dai. Questo che cos'è? Attenzione. Hai trovato un accesso nascosto che conduce a una via del tesoro, vai a vedere cosa c'è dall'altro lato. E cavolo, tesoro morfotubo? Ma sapete che forse invece non avevo fatto... Cioè, molti non li avevo fatti di questi. Circuito rapido sì. Allora, questo sì. Questo per esempio no. Il tesoro. Diciamo che forse avevo fatto una buona parte della storia principale, però mi mancavano molti di questi. Comunque, per riprendermi, facciamo un giro qui sulla ruota panoramica, che sarebbe una figata. Dicevo, facciamo un giro qui prima. Sfilata da sogno a meraviglia, ok? Che non l'ho fatto. Quindi, completa il livello, salva i Waddle di nascosti, sono 5 da salvare. Non credo che farò subito il 100%, ragazzi. Quindi abbiate pazienza, devo un attimo riprenderci la mano. Quindi cercherò di fare il possibile per arrivare in fondo, prima di tutto. Poi vedremo un po' che fare, come fare e quant'altro. Abbiate pazienza, giochiamocelo insieme, cerchiamo di divertirci insieme adesso. L'unica cosa che voglio fare al momento. Riprendere la mano un po' con i potenziamenti. Grandissimo Kirby! Troppo bello, diamo fuoco a tutto! No, quasi niente. Beh, per la verità, anche a troppo. Ben più di quello che pensavo, stiamo dando fuoco. Ok? Figata. Uh, aspettate, questo forse... No, aspetta. Oh, sembrava un muro in cui si poteva dare fuoco, eh. Eh, ragazzi, c'era il manifesto, più che altro, era quello. Io ora sono abituato al Paper Mario, il portale millenario, quindi vedo tutto di carta. E quindi tutto mi sembra... I nifug... Anzi, no, scusate, non i nifug... L'opposto, il contrario. Bruciabile. Ok, non credo sia una parola corretta, ma bruciabile. Passatemela. Che carine! No, bello! Oddio, che bello! Un framerate relativamente decente, però ok. Figata, cavolo! Ma questo si possono rompere? Cioè, tipo, li posso colpire io, sti cosi? Perché c'è quello che mi sembra proprio un... Tipo Pungible. Via! Mamma mia. Ok, saliamo. No! Aspetta, Kirby! Ok, calma. Calma e sangue freddo. Perfetto, alla grande così. Stavo guardando se sopra c'era qualcosa, ma mi sembra di no. Forse posso andare in quel terrazzino? Attenzione, scappiamo in questo terrazzino. Bellissimo. Ma posso passare... Tipo... Aspettate, devo vedere una cosa. Io devo provare. Non ci si vale! Dovevo provare a vedere se ci si andava oltre a quella zona. Dovevo provare per forza. Era più forte di me. Cavolo, il potenziamento del fuoco è veramente bestiale, eh. Veramente fortissimo il potenziamento del fuoco. Salve, Pulcino. Come va? Tutto bene? Perché viene con me, caro Pulcino? Devo riportarla dalla mamma? Ma non c'è la mamma. Si fidi che io non so dov'è sua madre. Io non è per dire. Io ce la riporterei volentieri, ma non ho idea del dove. Secondo me finisce male a stare con me, caro Pulcino. Un altro Pulcino. E due. Tutto questo è un problema. Tutto questo sarà un problema. Tre. Scusi, ho una missione qui da compiere. Che non so bene quale sia. Pulcini! Pulcini qui! Poveri Pulcini! Ok, venite da me, venite da me. Andiamo a prenderne un altro. Ok, ma guardate voi che casino. Grandi. Ok. Ho fatto una specie di turbo e non era quello che volevo fare. Ma è andata. No! Pulcini. Pietro di me. Facciamo la mamma anatra. Uh, è lassù la mammana, tra l'ho vista. Eh, ma qui c'è un altro Pulcino. Vedete, ho fatto bene. No! Lasci stare i... Non miei Pulcini, ma la di... I delay Pulcini. Che cos'è questo affare? Biberon, ragazzi, se volete del latte dietro di me, eh, che ne dite? Li vuoi? Li vuoi, cinque? Aiuta gli anatroccoli a ritrovare la loro mamma. Sì! Fatto! Yes! Grandi! Scusate, mi sono accanito contro un cartellone. Non capisco perché mi fanno così. Alla grande in questo modo. Ehm... Di che morte devo morire? Non così. Ok, bene. C'è qualcosa qua? Mamma mia, cosa non ho rischiato? Dovevo, dovevo andare a vedere, ragazzi. Dovevo. Qui non credo ci sia niente. Devo andare a vedere. No, non c'è niente. Ok, a posto, a posto, a posto. Sempre bene controllare. Che non si sa mai. Occhio, Ale. Qui c'è un Waddle. Il primo che troviamo, ed è il primo effettivamente, di quelli che mi ha trovato. Quindi bene, bene. Sono soddisfazioni. Vuol dire che meno per ora sto facendo le cose nel modo giusto. Ottimo. Bellissimo sto livello. Mi sta piacendo un botto. Certo che i livelli di questo gioco obiettivamente erano belli. Avevano... Una bella inventiva avevano avuto a fare sto gioco. Ok, grazie. Fuoco di vulcano. Ce lo sei ripreso. Che fa? Ancora. E basta! E si calmi un po'. Cos'è? Non ho capito. Non ho capito. Mi ci devo posizionare sopra. No. Sembra che... No. Effettivamente no. Allora. No, io volevo sputare... Esatto. Questo. Perfetto. Se ce l'ho da qui, immagino che ci sia un motivo. Quindi vediamo un po' di capire come funziona sta a fare. Ok. Quindi questo fa il tipo... Tipo turbine. E andiamo molto avanti. Quindi se salto che fai invece? Ah, ok. Va bene. Uh, addirittura. Va benissimo, va benissimo. Che spettacolo. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Eh, ma mi sa che non sono arrivato lassù. Eh, ma c'è una stella lassù da prendere. Come ci faccio a tornare? La telecamera si può spostare? Certo che no. Ale. Ma che domande fai? Però forse posso rilanciarmi. Mi sa che dovevo lanciarmici usando... No, Ale. Non così. Ok. Fidati. Fidati. Che ce la facciamo. Anche senza. Fida. Si fidi, Kirby. Si fidi, Kirby. Va di così, Kirby. Lo so, lo so, lo so. Ma ora tu userai questo? Sì, cavolo. Yes. Yes. Quindi in volo e alla fine si usa... Porca miseria. Il turbine che è un pelino incontrollabile sto turbine. Ma un pelino. Stia, stia calmo. Kirby. Stia. Stia buono. Non doveva finire così. Kirby. Kirby. Credo che questa... Ma la melma non fa danno? Ah. Cioè, io l'ho evitata fino adesso e non faceva danno. Mi sembra giusto. Mi sembra più che giusto. Perfetto, perfetto. Ma è ovvio, no? Ma volete mettere. Allora, allora, allora. Calma e sangue freddo. Penso che ci sia qualcosa lì dentro. Quindi prendiamo un attimo il tempo giusto. Ok. Non so se questo è il tempo giusto, ma... È un tempo. Ma porca miseria. Lo sapevo io! È tosto, è tosto. Prendere il tempo così è tosto. Allora, ci riproviamo. Vediamo un po'. Praticamente devo fare al contrario. Tipo così. Si fidi, Kirby. Si fidi che questa è giusta. Guardi, Kirby. Io gliel'ho detto che questa era giusta. Grandissimi! Ma la strada era di là, vero? Sì. Credo che questo sia un percorso da fare tipo così. Cioè, 50 secondi, 70 secondi. Che una figata, eh, obiettivamente. Ma come la schianto qui la terra? Non lo so, ma proviamo. Allora. Buccomorfosi! Via! Scatto turbo! Attenzione, eh. Perché qui... Qui sarà tanta roba! Ho l'impressione che ci fosse tipo una scorciatoia da fare a mod di circuito di Wario. Il monte Wario. E infatti, 8.43. Secondo me, io devo provare a fare una cosa. Aspettate un po' perché... Scusate, io ci provo. Magari va a finire male, ma... No, no, no. Ok. Non si può fare. Va bene. Va bene. Va bene. Calma. Calma il sangue freddo lo facciamo. Ho semplicemente girato male la prima curva. Easy, easy, easy. Secondo me si può fare quel salto, eh. Forse tenendo premuto B, magari. No, no. Il cono no, Ale. Il cono no. Il cono sì! Fermi tutti? Uh! Le cose a caso! Quelle belle! Sì, cavolo! Sì, cavolo! Sì! Grandissimi! No, fermo. Espella. Espelga. Espulsi! Non lo so. Espulgitus! Vai così, perfetto. Attenzione! Via! Via così! Mamma mia! Tre secondi, trecentotrentatree! Tutti i tre! Benissimo! Benissimo! Yes! Tempo proprio semplice da fare. Quel numero. Grandissimi! Meno male che è col tre. Ok, perfetto. Tutto a posto. Col tre è importante. Tre. Bel numero. Quindi va bene. Che c'è qui? In gelatino? Qui abbiamo... No, no, no. Sì! No! Che cos'è? Mi sa che era una delle sorprese. Ok, va bene. Un Waddle D. Che è il secondo, tra l'altro, che ci andiamo a salvare. Quindi c'era niente qui sopra? Non credo, francamente. C'è semplicemente una lattina, quindi no. Ok. Sapete cosa? Potrebbero essere anche da ripulire le lattine. Io spero di no, onestamente, per fare tutti gli obiettivi, perché... Secondo me no. Però si sa mai, eh. Si sa mai. Allora, nel frattempo noi scendiamo. Risaliamo qui dalla scala. Tu... Cosa devo fare per toglierti? Questo. Bene. Sono soddisfazioni anche queste. Ottimo così. Guardate che bello, però, laggiù. Ci andremo, forse... Mi sa che livello, sapete? Potrebbe essere livella la parte... Livella. Della famosa livella, no? Non livello. Livello pare brutto, meglio livella. Questa zona, invece? Ale, io ho l'impressione che ci vai a morire. Ok. Credo di aver perso un pezzo. Forse io dovevo lanciarmi da lassù in modo da arrivare in cima a questa torre. E che l'ho vista dopo. E non credo ci sia modo da arrampicarsi abbastanza da risalirci, forse. Beh, un modo c'è. Io provo una di queste scale, magari funziona. Che ne so. Direi di no. Perfetto. Quindi ci siamo persi la zona lassù. Che non so cosa sia, ma ce la siamo persa. Credo fosse... Qualcosa. Eh, mi sa che era un Waddle Dee. Porca misera, era un Waddle Dee. No, 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 no. Kirby, scendi. No, dove sei? Vieni qui! Presa talpa! Yes! Ok. Eh, è andata. Eh, queste cose purtroppo Kirby ce le ha. E alle volte non riesce a fare su... Non doveva andare così. Stiamo per morire tecnicamente, eh. Abbiamo quasi più vita, ma... Ehi! Succede anche questo! Ok, saliamo qui sopra. Perfetto. Non stiamo giù perché non mi pare il caso. Ale, se ci vai di dente, non è il miglior modo per pararsi. Sì, i denti servono per mangiare, non per parare le botte che prendi. Fidati! Ok. Sattiamo alti, che magari riusciamo... Perfetto ad arrivare qui. Vivi. Un po' di vita l'abbia ripresa. Noi stiamo alti qui fuori, magari passiamo. Ottimo. Stavo guardando se tante volte ci fossero anche zone segrete. Ehm... Vieni qui. Ok, preso. Sotto però io non vedo niente. Almeno, sembra non ci sia niente. Però sai, si sa mai qui, eh, in questo gioco. Tipo lì sopra a quel tetto, a destra. Ci sarà stato qualcosa? Eh, valla a sapere. Allora... La mia idea... Era passare oltre il prima possibile. Cosa... Cosa siete? Aia! Bene. Boccomorfosi. Quindi togliamoci pure questa abilità. Bellissimo! Ok. Così saltiamo. Ai kirpi! Ehm... Non lo so, ma va bene così. Uh, ma spacchiamo tutto qui. Addirittura... Ma questi no, però. Perché questi no, questi sì? Perché ora sì, questi? Non l'ho capita. Però... Ehi, chi sono io per dare contro al gioco? Quindi va bene. Alla grande così. Che figata. Spacchiamo. Spacchiamo. Vai kirpi! Spacca tutto! Qui c'è roba. Boccomorfosi per... Ah, un'altra volta questo? Se tante volte finissi il potere, evidentemente. E sta per finire il potere, in effetti. Quindi ora facciamo la Boccomorfosi. Bello, però. Il gioco ti aiuta in pratica. Se tu finissi il potere prima di arrivare da questa parte... Ah, che figata, che figata. Bellissimo, bellissimo. Oddi salvato! E ne manca uno che era sopra quella torre. L'abbiamo visto. Quindi, ok. Come faccio a passare oltre? Non lo so. Andiamo di qua? Magari non si può passare oltre. Non per il momento, se non altro. Il gioco mi dice di buttarlo via. Quindi è ciò che farò. Ok. Ha detto di buttare via quello. Non la tua vita. È vitale, magari. Fare determinate cose. E qui ho l'impressione che ci inseguirà qualcuno. Vedendo questa visuale a mod di Crash Bandicoot. Che io adoro moltissimo. Come ben sapete, se seguite le mie serie. Proprio la mia serie preferita. Quella di Crash Bandicoot. Che tra l'altro vi ricordo che ho fatto il primo. E l'ho anche platinato. Quindi, nel caso. Allora. Che c'è qui sotto? Davvero niente? Tu mi stai dicendo che questo è qui per... Puro spirito sportivo, quindi. Ho come l'impressione che ci sia qualcosa che ho missato. Che ho palesemente mancato. Ora. Vediamo un attimo. Salendo dove andiamo a finire. Eh. E finendo. Finiamo. Finiamo il livello. E finiamo sto livello. Eh. Scusatemi. È il primo di ritorno. Anche se perdo un po' di cose. Dai. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Forse era più su. Forse dovevo spaccare qualcosa. Forse dovevo arrivarci potentissimo. Che ne so. Non lo so. Però sappiamo che... Vedete che c'era un poster da togliere. Rimuovi il poster ricercato con Elphilin. Non ho idea di che cosa sia. Ma riprendo adesso. Quindi non mi fate fare il 100% nei vari livelli. Per ora. Li faremo poi. Quindi tranquilli ragazzi. Lo farò. Però con calma. Waddle Dee aiutante. Waddle Dee aiutante viene travolto dal vortice insieme a Kirby. Quando sente che i suoi amici Waddle Dee sono stati catturati dall'esercito delle bestie e le loro case sono state distrutte impugna la sua fedele lancia. Ed è pronto a unirsi a te come secondo giocatore mentre avanzi nel nuovo mondo. Alla grande. Non te la vuoi un Waddle Dee? Brontottero. Cos'è sto Brontottero? Non si sa ma è bellissimo da vedere. Bellissimo. L'importante è aver fatto il livello. Chiesa. Ok. Siate felici? Almeno voi? Perfetto. 7 su 11. Oh è qualcosa eh ragazzi. È pur sempre qualcosa. Bene. Quindi si dovrebbe essere sbloccata quella zona lì. E ho abbastanza salvato abbastanza Waddle Dee? Direi di sì a occhio. Sì. Grazie a quelli che abbiamo salvato fino adesso dall'inizio del mondo possiamo entrare lì dentro. C'è il pericolo sotto il grande circo. I Waddle Dee ti hanno aiutato ad aprire il cancello che ti impediva di proseguire. Accedi al livello e sfida il boss che difende il territorio. Ma relax eh. Easy. Con calma. Che cos'è? Tesoro Tornado Cignierino? Ma no. Non ho fretta a ritornare dalla città. Volevo solo capire che cosa c'era da fare. Tipo mi piaceva fare uno di questi livelli. Però uno magari con una stella. Due stelle mi pare un po' eccessivo. Vabbè. Tesoro Morfo Anello. Ci proviamo. Dai. Prima di fare il livello finale. Raffiche continue. Fai girare i mulini. Ok. Questi se non ricordo male erano livelli sfida. Andiamo un po' di farlo. La prima. Poi vi taglio fino a che non faccio quello giusto. Non vi preoccupate. Anche perché non mi ricordo più come si fa a usare sti cosi. Tipo. Ad esempio. Non così. Ad esempio. Però ho capito. Dai. Almeno ho capito. Ok. Quindi. Uno è andato. Due è andati. Questo dovrebbe funzionare. Yes. O se ce la facciamo a fare tre stelle pur avendo perso. Ragazzi. Tanta roba. Uno. Due. Eh. Quasi. Ok. Andato. Abbiamo perso un po' troppo tempo qui. Peccato. Perché penso avessi recuperato abbastanza bene la situazione prima. Uno. Due. Attenzione. Che prendiamo quello. Oh oh. Yes. Ce la facciamo entro un minuto? Sarebbe già qualcosa onestamente. Entro un minuto. Non so cosa colpire. Vai. E... Forza. Scorri. 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 Vai. Un minuto e uno. E non era l'ultimo. Porca miseria. Gia 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 gia. Vai Kirby. Quanto ci abbiamo messo? 50? Cioè mancavano 57 secondi. Abbiamo fatto qualcosa. Era decente? Obiettivo un minuto. Ok. Ma un minuto per vincere tutto? Cioè io dovrei farlo tipo in 30 secondi. Manca una stellina? Proprio niente? Cioè. Sì. L'abbiamo completato. Ma non ho superato l'obiettivo. Ok. Me lo faccio e cerco di battere l'obiettivo di un minuto. Attenzione. Stavolta è stato un bel livello. Questa volta l'ho fatto abbastanza bene. C'è qualche imperfezione. Qualche leggera imperfezione verso la fine. Però un gran bel andare. Diciamo così. Bell'andare. Non bel andare. Non belano questi livelli. Quindi tranquillo. Rilassa. Non sono pecorelli. C'è problemi? Allora. Fatto anche questo tesoro morfonello. Quindi farei il tesoro di fuoco. Dai. Che mi piace il tesoro di fuoco. Facciamo un po' di questi tesori. Così ci riprendo un attimo la mano come si deve. E poi nel prossimo episodio magari facciamo il boss e completiamo questo mondo che secondo me prende bene. Sarà una bella sfida presumo quella col boss. Quindi cercare di arrivarci vivi potrebbe essere la cosa migliore. Cioè facendo questi tentativi qui. Ok. E vai giù. Vai. Perfetto. Credo che abbia perso un botto di tempo facendo queste cose. Non so a che distanza mi arriva. Distanza enorme rispetto a quella che provavo io. Quindi ok. Perfetto. Vai giù Kirby. Benissimo. Riprendiamo un po' di energia. Yes. Ottimo. Qui devo semplicemente scorciare così. Ottimo. Eh lo sapevo. Lo sapevo che ho sbagliato. Ho sbagliato a non usare il potere del fuoco. Perché vedete ti dà una specie di turbo. E io mi sono fatto prendere adesso stupidamente. No Ale. Vai. Vai. Via. Via. Prendi. Forse. Forse l'abbiamo fatta la prima. Forse. 45. E che lo fa a 45? Eppure lo devo fare. Ma tra un attimo. Tanto vediamoci l'animazione del livellino. Che so soddisfazioni anche queste. Obiettivamente. Vediamo ribattere l'obiettivo. 45 secondi. Io l'ho superato di 11. Sarà tosta. Sarà tosta. Ce la dovrei aver fatta. Ho fatto un casino verso la fine. E come sempre. Io sbaglio sempre verso la fine. Ma dovrei avercela fatta. Ok. Alla grande. Bellissimo. 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 È stata una soddisfazione abbastanza estrema. Ottimo. 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 Pensavo di aver fatto davvero un danno. Alla fine del livello. Invece è andata bene. Per fortuna. Mamma mia se ho rischiato tantissimo. Qui abbiamo invece il tesoro granata. Ok. Lancia e vinci. Aziona il blocco bomba. Proviamo. Oh ci siamo. Lancia e vinci. Aziona il blocco bomba. In che senso? Mica lo so io come fare sta affare. Aspettate un po'. Fatemi prendere la mano perché non ne ho idea. Ah quindi va tipo lanciato la bombetta in modo da... Ok va bene. Sì. Non doveva andare... Tipo Kirby. Kirby. Calma. Ok. Quindi da qui va lanciato. Da terra. Perfetto. E bisogna anche impararli. Tu. Viliacco. Le zone vanno imparate. Ok. Bisogna imparare quello che... Quello... I lanci. Dove tirare. Dove lanciare appunto. Ok. L'ha fatto abbastanza schifo in questa prima parte. Quindi vediamo un po' di fare peggio nella seconda. Bellissimo. Guardate lì il nostro Kirby. Kirby. Con che non c'ho l'ans. Il nostro Kirby maghetto. No scusi. Ora non può... Ok. Perfetto. Sì ma non può farmi questa cosa. Del... Maledetto. Ah ma quindi più si tiene premuto più carica più lancia alto. Ah... E ditelo prima allora no? E ma che me le faccio io sapere queste cose se non le uso mai? Citti citti guatti guatti. Mancava ancora più di un minuto. Citti citti guatti guatti e mi ha fatto schifo. 12 secondi sopra. Ma ora lo facciamo. Non vi preoccupate che ora lo facciamo. Risolviamo la situazione. Senza indugio. Senza problemi. Che va alla grande così. Intanto queste stelle io non ricordo a che cosa servono onestamente. Queste tre magiche. So se sbloccano qualcosa di particolare alla fine del livello. Mica me lo ricordo. Penso lo scopriremo comunque. Non vi preoccupate. 45 secondi è l'obiettivo. Facciamolo. Dai Kirby. Che ho fatto un casino. Ho vinto. Ma ce l'ho fatta. Anche giocando. A fare casino. Sì. Grandi cavolo. Sì. 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 E giocando a fare casino relativamente comunque alla fine ho fatto un bel lavoro. Stavolta ho quasi giocato meglio alla fine che all'inizio. Sono andato molto meglio nella parte finale perché ho recuperato diversi livelli buttati via diciamo. Quindi tanta roba. Tanta roba davvero. Qui che cosa c'è? C'è un esame. Cos'era? La monetina? Ok. Tesoro martello. L'ultimo che ci faremo quest'oggi. E tra l'altro. 1 e 20 il tempo per finire il livello. Martello alla prova. Presumo che quindi dovremmo utilizzare il martello. Qualcosa del genere? Scopriamolo insieme perché il martello ricordo che mi piaceva come potenziamento. Però non so che cosa devo fare. Tra l'altro ho 3 minuti. Wow. Tanta roba eh. Ok. Grandi così. Forse era meglio se... Ah ma tipo qui l'arena. Ah è tipo arena. Va bene. Devo semplicemente muovermi allora. Abbattere i nemici. Cos'è? Prima zona fatta perciò. Non so come funziona ma... Eh. Bisogna provare anche. Vedere un po' come si vince meglio o muore meglio. Dipende dai punti di vista. Ma che sono dettagli. Grande Kirby di fiato. Mamma mia che fiatella di Kirby. Porca miseria. Mangiato pesante eh Kirby. Kirby. Io non vorrei dire ma... Ci hai dato peso eh. Ok. Ok. Ma hai fatto un piacere tu a venire qui obiettivamente. Perché così mi hai risparmiato tempo. In teoria abbiamo più 20 secondi tipo per finire il tutto. Dubito che riuscirò a farlo. Io continuerò a farmi colpire. Non me ne frega niente. Ok. Continua continua Kirby. Kirby. Kirby insistisci. Non credo che ce la faremo. Perché dovrei aver... Già finito in livello a quest'ora. Dovevo? Dove siamo? Dove siamo? Vai Kirby! Fidati! Chi sesti? Kirby insisti. O tu o lui? Lui! Vai nel centro! Anzi no! Dai! Dai! Non lo so. Che è venuto fuori? Forse è un minuto e 40 secondi. Tipo un minuto e 37. Bah! Porca miseria! Dovevo usare... Le stelle. Probabilmente dovevo lanciargli le stelle addosso. Però non mi ricordo se si possono risucchiare. Non credo quando hai un potere. Però forse avrei dovuto provare per fargli ancora più danno. Vediamo come si fa a farlo sotto un minuto e 20. Sarà tosta ma proviamo. Ok ragazzi. Ci ho riprovato diverse volte. Non sono riuscito a migliorare più di tanto. Quindi ci deve essere un trucchetto che devo reimparare. E non c'è niente rimale. Lo faremo tanto negli episodi magari extra del 100% del gioco. Non ci sono problemi a rifare questi livelli. Comunque sono abbastanza divertenti da rifare. Perciò non ci sono problemi. Nel prossimo episodio ci faremo... Quindi il tesoro morfo tubo. Qui che c'è? Uh, grandi. Il tesoro spada. E questo che presumo si andrà a sbloccare poi più avanti. Magari facendo tutti questi altri livelli. Non lo so. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Per questo noi ci salutiamo qui. Vi ricordo se vi va di lasciare un bel like al video. Se il video vi è piaciuto ricondividelo sui vostri social. Ovviamente se vi va se vi fa piacere così mi date una mano a crescere come canale. E noi ci vediamo alla prossima. Sempre con Kirby. E il... Com'era il titolo? Kirby! Il nuovo Kirby! La Terra Perduta! Alla prossima! Ciao!